ciao buonasera a tutte e tutti e beh come abbastanza intuitivo da quello che abbiamo appena visto siamo qua stasera per raccontarvi del lavoro che che io e tutto il team di monodori studios che parte qui stasera abbiamo fatto su questo podcast sotto le unghie e per farlo ho chiesto aiuto sostegno ma anche rimprovero e questo sono stata molto chiara a due posso dire amiche non è professionale ok a due care amiche speranza domitila perché insieme portano tra le loro esperienze e il loro lavoro da autrici secondo me una buona testimonianza non solo di di questa storia cioè di come si può parlare di questa storia ma in generale di come ci si approccia a storie che nel mio caso sono molto lontane dal mio vissuto per tantissime ragioni una del tutto palese tra l'altro e quindi ho venuto loro due perché sapevo che avrebbero scelto i rimproveri giusti e le parole giuste anche per capire tutti insieme se qualcuno di voi volesse mai approcciarsi a storie lontane come possiamo fare migliorarci cosa è stato fatto di bene di di buono e cosa invece poteva essere fatto di meglio giusto giustissimo per superare la sindrome dell'impostore che sempre mi accompagna in tutte le mie immagini che avventure torinesi quindi da 10 anni 11 a questa parte il ruolo che mi sono ritagliata in questo caso questa sera ringraziandovi tantissimo per essere qui è quello proprio di bombardare di domande le due pulzelle che ho al mio fianco e fare come la gif di homer simpson quello che entra lentamente nel cespuglio arretrando perché sa di non essere al posto giusto quindi io la devo dire sempre da contratto la prima domanda che rivolgo questa sera e perdonate ovviamente la leggerezza assolutamente fuori luogo fuori posto ma quello che abbiamo ascoltato è soltanto un briciolo del gigantesco peso specifico di cui è portatrice la storia di patience la primissima cosa che chiedo questa sera a giulia è questa tu a un certo punto dici e ne abbiamo sentito un pezzettino adesso io questa storia non posso raccontarla che per il mondo egomaniaco di chiunque racconti storie e nello specifico di chiunque poi addirittura le racconti letteralmente ad alta voce con con i podcast insomma è abbastanza insolito no a proposito di impostori e impostrici però prosegui dicendo ma patience mi chiede di scriverne e prestarle la voce in modo che lei possa ogni tanto riposare la sua che è un modo eccellente per porla cosa ti ha fatto superare questo impasse iniziale e decidere che si effettivamente potevi provare a raccontare la storia cosa ha fatto poi da molla concretamente ok questo lavoro è iniziato tanto tempo fa c'è uscito il podcast a febbraio gennaio febbraio febbraio però in realtà il nostro lavoro è iniziato molto tempo fa per fare un brevissimo assunto il podcast racconta le vicende di patience una donna andata in congo arrivata in italia con il desiderio di diventare di diventare suora poi per sbagliate ragioni che scendete nel podcast desiderio svanito che poi incontrato un uomo che in sostanza ha cercato di ucciderla appunto dando 12 coltellate fatto proprio un sunto mega però insomma c'è molto di più quando a me è stato proposto di raccontare la sua storia ma veramente tanti anni fa ormai ero spaventata per questa cosa che tu hai detto cioè appunto come potevo immedesimarmi in lei cioè farle veramente un buon servizio cioè riuscire con la mia voce a spiegare dei concetti solo suoi che io non avrei mai capito e che non avrei neanche mai sarei stata disonesta a provare a capirli però poi ho capito che lei voleva che questo accadesse cioè voleva trovare qualcuno che l'avrebbe capita intanto quindi questo lei ha proprio fatto una sorta di provino cioè diciamo no cioè giustamente ha detto vediamo se sei tu cioè se io e te ci troviamo bene insieme anche perché ha dovuto raccontarmi delle cose che magari voi nel podcast non sentirete mai ma anche molto pesanti della sua vita quindi immagino che tu devi trovare un certo feeling con la persona che che ti trovi davanti perché lei aveva un fortissimo desiderio di raccontarsi e continuava a dire questa cosa che poi è il suo tutto ciò che la circonda che è facciamolo per ogni donna facciamolo per ogni donna è quasi come se lei avesse capito di avere un limite che era quello del fatto che narrare non fosse il suo mestiere e quindi si diceva io non lo posso fare da sola perché non so neanche come iniziarla questa cosa qui però allo stesso tempo una forte consapevolezza del fatto che se forse lei avesse raccontato questa storia allora sarebbe servito a qualcuno quella cosa un po' retorica che però è bellissima cioè insomma penso che anche voi nei vostri libri l'abbiate provato no qualcuno ti legge e ti dice guarda per un frammento un bricio la mia vita mi è servito lei aveva questa convinzione alla fine ha convinto anche me però ero spaventatissima cioè è proprio maneggiare una storia così significa per me che tra l'altro scrivo tanta tantissima roba che ha a che fare con reale però molto personale quindi tanta non fiction è proprio mettersi in un punto e guardarla cioè ok la luce adesso batte così la luce fa così sono stata spaventata credo tutto il tempo ma ancora adesso quando lo ascolto provo un certo senso di paura di timore grazie infinite giuli e a te invece esperance chiedo questo viviamo in un momento di psicodramma e paranoia collettiva da sostituzione etnica soltanto legata al colore delle sirene che comunque no ecco è riuscito a nevrotizzare anche il il mondo del racconto legato alle persone più basse più piccoline a te chiedo quanta e qual è l'importanza di rappresentare quindi di raccontare le storie i cui personaggi rispecchino il più possibile una pluralità di identità e di vissuti aiuto buonasera risolvere anche cortesamente la pace nel mondo esatto se mi avanza del tempo mi applico buonasera a tutti e a tutti la prima cosa che vorrei dire che quando mi sono approcciata all'ascolto di questo podcast è stato per me inevitabile fare due ragionamenti il primo mi ha portato a un libro a cui sono molto legata di una delle mie autrici italiane preferite che melania mazzucco e il libro si chiama io sono con te molto bello e che un libro che nell'approccio mi ha portato a fare fatica e la fatica rispetto a queste storie raccontate da altre da altre una cosa di cui abbiamo parlato ci siamo confrontate è stato anche un processo che io ho dovuto elaborare decostruire e ricostruire essendo un'autrice ho cercato di osservare qual è stato il processo della scrittura di persone come le chiamavano tanto tempo fa migranti seconde generazioni postcoloniali e c'è stato un processo lo sappiamo che all'inizio se pensiamo appunto alla fine degli anni 90 agli anni 2000 molti autori molte autrici anzi quei pochi autori quelle poche autrici che c'erano spesso si facevano accompagnare dall'aiuto no di giornalisti giornaliste o anche appunto di amici incontrati nel percorso proprio per quella cosa ho qualcosa da dire ma non penso di avere la proprietà lessicale perché era quella no la prima barriera non era tanto non so dire perché se penso a un autore come pap kuma che in questo momento sta traducendo la divina commedia dall'italiano al wolof che è la lingua che si parla in senegal non è carente di un linguaggio di proprietà di linguaggio non sapeva l'italiano motivo per il quale che il testo io venditore di elefanti l'ha scritto insieme all'aiuto no di una persona è un processo che non può essere dimenticato e quindi anche quando mi sono appunto approcciata all'ascolto di questo podcast ho dovuto ricordare questa cosa ho dovuto ricordarla perché spesso queste nuove generazioni di cui io mi sento di far parte nonostante abbia 32 anni hanno una forza hanno una come si può dire una voglia che è molto molto impellente no il desiderio di fare tutto subito come è giusto da questa generazione se penso appunto la generazione z come la chiamano però sono carenti di quell'attesa di quella pazienza che hanno dovuto vivere le generazioni precedenti e spesso se penso al ragionamento che si fa all'interno nel mio caso la comunità afrodiscendente noi non possiamo essere esenti dal lavoro che è stato fatto dai nostri genitori dai nostri zii per permetterci di essere le persone che siamo adesso e quindi quando ho pensato alla storia che tu hai portato ho pensato a questa donna che tra l'altro si trova in una generazione veramente di mezzo con un'esperienza di arrivo nel nostro paese un'esperienza di capire come stare in questo paese e incontrare determinate esperienze persone che l'ha portata a non avere magari uno sviluppo di una capacità lessicale ma anche di esperienze emotive come magari quello che ho avuto io magari gli anni poi sono combaciati però mi ha fatto capire che dovevo mettere da parte io prima di tutto e speranza un mio pregiudizio perché comunque anche io avevo dei pregiudizi nell'ascolto di questa esperienza e soprattutto dovevo rendermi conto che non poteva essere tutta una lettura dal mio punto di vista dovevo lasciare andare certe cose e mi ha aiutato tanto cioè se un podcast mi permette di crescere se un podcast mi permette di anche mettermi in discussione secondo me è una cosa super valida per quanto riguarda la tua domanda scusate sono persone dalle premesse lunghe però per quanto riguarda la tua domanda io trovo molta difficoltà perché nella mia vita personale cerco di essere la persona più leggera e serena serafica che possa essere quando si incomincia a parlare di queste cose io dico sempre faccio sempre questo esempio io sono cresciuta in un contesto in cui non pensavo che esistessero persone nere adulte la prima volta che ho visto una persona nera con i capelli grigi ho detto forse invecchio forse succede anche a me questa cosa e quindi quando si parla di rappresentazione per me è talmente imprescindibile è talmente radicato all'interno proprio di una visione culturale che non se ne può parlare e quando ci mettiamo in bocca il giudizio il parere la paura e vogliamo metterla sulle vite dei bambini per me è assurdo cioè al posto di pensare magari al nuovo live action della Disney pensiamo ai CPR che non chiudono perché forse la vita delle persone è molto più utile dalla fantasia di un bambino di sei anni e quindi per me io non riesco a smettere di guardare la realtà che vivo la contemporaneità che è molto complessa con questa cosa mi posso arrabbiare perché mi capita magari soprattutto quando mi capita di aprire uno social mi posso arrabbiare però poi mi ricordo che la gente sta sui confini con i fili spinati e non arriva il giorno dopo e quindi le priorità per me cambiano e quindi ogni volta che si aprono queste discussioni mi piace riuscire a tentare almeno io personalmente i piedi per terra che è una cosa sempre molto carina molto utile e molto preziosa direi torno a chiederti Giulia c'è un momento in cui allargando un attimo ulteriormente se possibile l'inquadratura dici le donne vittime di violenza maschile muoiono comunque vittime due volte com'è cambiata la tua comprensione delle meccaniche della violenza di genere lavorando a questo progetto? ok sì allora intanto ho scoperto questa cosa cioè che è rarissimo sentire la vittima parlare la vittima di una violenza cruente e durissima come quella di Pazians cioè un posto che non c'è una gerarchia della violenza ed è terribile farla però la sua è di fatto 12 coltellate quel nome era andato lì per ucciderla e non siamo abituati a ascoltare la vittima tra i tanti commenti ricevuti in questi mesi riguardo al podcast il maggiore è stato ah ma perché parlava sempre lei? beh perché non avrebbe dovuto farlo cioè è la sua storia perché non deve essere lei a raccontarlo perché noi non siamo abituati cioè per noi la donna vittima di violenza è quel titolo sul giornale noi lo leggiamo dopodiché diciamo ok a me non capiterà mai perché io sono più furba migliore non mi metto in quel guaio perché non conosco è capitato a mia cugina sì vabbè ma lei e sto generalizzando me ne rendo conto però è l'atteggiamento di tanti noi poi c'è uno secondo atteggiamento che è quello che io in passato ho avuto e che un po' Passianz mi ha fatto cambiare cioè del ma porca miseria ma come ti è venuto in mente di metterti in quel casino lì e quella cosa lì da scalfire ne parlavamo poco prima è difficilissima cioè io a un certo punto Passianz non so se sto anticipando sto anticipando mi stai odiando vero? ecco lo sapevo vabbè vado avanti ok mi odi no lo dico dopo no non so come continuare lo faccio a un certo punto Passianz conosce questo uomo su trovandolo su Portaportese che è un giornale insomma di come si può dire di annunci di affitti e tra questi annunci c'è un uomo che cerca una donna e io quando lei me l'ha raccontato una due tre volte quando me l'ha raccontato dal vivo che siamo andati a registrare ho sempre pensato però dai anche tu ma come si fa ma è ovvio che se conosci uno su Portaportese poi questo arriva ti ammazza però cioè voi capite quanto sono stata una persona orrenda ma orrenda perché ho parlato dall'alto delle mie conoscenze del mio pregiudizio di quello di cui io sono convinta di quello che mi è stato insegnato cioè di un sacco di cose che non ho detto che lei dovesse avere e questo a me che ho lavorato con altre donne vittime di violenza è capitato spesso cioè quella cosa che e vi assicuro sto facendo molta fatica a dirlo però è vero dici però tu non ci potevi pensare e e no cioè la verità è che no non ci potevi pensare solo che quella cosa lì il fatto che lei non ci poteva pensare che non è con lei che bisogna mai assolutamente prendersi ma con lui ti arriva purtroppo solo se la vivi è cambiato perché Pazianza mi ha messo davanti alla mia grande ignoranza sotto questo punto di vista cioè sì sotto il fatto che io vivevo di un enorme pregiudizio invece andavo in giro come una persona insomma così evoluta che riusciva da capire tutte le storie a comprendere tutto ma con lei non ho potuto fare a meno di giudicarla e mi è proprio cioè poi ci ho lavorato e glielo ho detto cioè ci ho lavorato dicendoglielo e e lei è stata molto più brava di me no? perché poi lei ovviamente è abituata a quel giudizio quindi è abituata anche a spiegarti perché non dovresti averlo e ci vado molto più cauta ma non perché tutte le persone che abbiamo davanti stanno vivendo un dramma di cui noi non siamo posto che sì tutte le persone ecco perché è così ma perché noi non sappiamo veramente niente della vita degli altri cioè ma ma neanche degli altri che conosciamo zero totale solo che su quelli che conosciamo un pochino ci lasciamo andare no? su di lei vi assicuro in tanti passaggi che voi abbiate ascoltato o meno il podcast ma proprio parlare con lei ti viene proprio voglia di darle uno scossone e dirle ma no cioè lei ad esempio è estremamente religiosa estremamente religiosa e per me è stato difficile nel senso che quando lei diceva mi ha raccontato certe vicende che nel podcast poi abbiamo deciso anche di non inserire e diceva no io mi sono salvata perché è stato un miracolo lei anche insomma di quello che le è successo dice che è stato un miracolo che un angelo la preseva sollevata e io mi arrabbiavo mentre lei lo diceva perché pensavo non è stato un miracolo è stato il maledetto caso però non ero rispettosa verso cioè verso la sua quello è difficile no? perché siamo cresciuti in modo totalmente diverso noi no? che tutto dipende da noi oppure dal caso oppure al massimo che diamo delle energie il palo santo cioè no che è altrettanto idiota però rispettare questa sua parte spirituale è stato difficilissimo e anche a un certo punto doverle dire passiamo non possiamo mettere tutte queste citazioni al Papa nel podcast perché è lo che dobbiamo fare non possiamo perché a un certo punto avviene fuori un'altra roba e confrontarmi con lei no? su questa cosa qua mi ha insegnato tantissimo comunque per lei la religione la sua parte spirituale è stata utilissima per elaborare quello che le è successo ma tra l'altro ok ah scusa questo punto di vista parte da una consapevolezza nel momento in cui io riesco anche non tanto ad ascoltare l'altro ma ad ascoltare me stessa me stessa ascoltarmi significa che io devo mettere come io mi dico sempre sul tavolo i miei privilegi e quanto mi sono messa sul piedistallo perché crescere in un contesto che ti educa certe cose ti mette automaticamente sul piedistallo e se tu sei nato cresciuto veramente intriso all'interno di una cosa fai molta fatica che è anche il motivo per il quale spiegare mostrare svelare certe cose difficile se stai a metà dove magari appunto come la protagonista di questo podcast che è cresciuta nella prima parte della sua vita da una parte e poi si è spostata no? di tantissimi chilometri e si è dovuta aggrappare ad altro perché quella cosa ti smuove cioè sono delle zolle che veramente devi fare in modo che non avvenga un terremoto costantemente a qualcosa ti devi aggrappare e quindi tua figlia la chiami in un certo modo e quindi fai delle citazioni in un certo modo e devi vedere una risposta totale che ti dà quella certezza perché tutto il resto non è certo perché tutto il resto l'hai perso e continua a perderlo e secondo me quella cosa lì di dire ok io provo fastidio e l'ho provato anch'io ne parlavamo prima cioè quando una persona mi dice sto cercando l'amore della mia vita sugli annunci anche io alzo gli occhi nel cielo e dico dai cioè ti prego ti prego e poi però fai un respiro ma come quando magari le persone accanto a me davvero hanno un rapporto con la spiritualità con la religione molto forte io ti dico dai e poi però mi devo fermare se voglio davvero mettermi a disposizione possiamo non farlo non siamo obbligati però nel momento in cui tu arrivi in un dialogo quel dialogo deve essere egualitario perché se non è un egualitario non è un dialogo ma è un monologo dove tu ogni tanto vieni interrotto a proposito di dialoghi ti ho sentita spesso in occasioni diverse diverse da questa diverse da quelle legate al racconto invece più vicine alla formazione quindi all'accendere fiammelle nelle teste nei percorsi altrui ti ho sentita spesso ragionare in termini di in qualche maniera responsabilità anche e carico legato al raccontare storie altrui allora ti chiedo se perché magari la risposta è no se dal tuo punto di vista sia possibile ci siano degli strumenti dei rimedi delle modalità utili per sostanzialmente fare giustizia al racconto di altre identità di altro trauma se una fase alacre di documentazione folle che poi è quella che in teoria dovrebbe interessare qualunque narratore narratrice quando deve raccontare qualunque storia sia remotamente sufficiente quali responsabilità anche sono connesse al farsi portatore e portatrice di storie altrui con il loro consenso naturalmente sempre sempre il consenso è una cosa carina secondo me una delle cose principali è esattamente come diceva Giulia avere chiaro avere chiara la risposta alla domanda perché vuoi raccontare questa storia e le risposte sono diverse possono essere diverse però già quello è un punto di partenza io una delle cose che ho capito dalla mia vita per esempio è che io non riuscirò mai a raccontare determinate fasi della mia vita ma questo non significa che non avrò il desiderio profondo di farlo ma non ho gli strumenti non ho la capacità emotiva non riesco a dare all'amore che ho per le parole una storia così grande così forte e quindi ogni tanto quando ci penso penso cavolo qualcuno dovrò andare prima o poi da qualcuno a chiedere una mano no? e spero sempre che dall'altra parte ci possa essere l'onestà di una persona che mi dica proprio guarda io non ce la faccio perché quello è molto più limpido più lineare più appunto onesto emotivamente intellettualmente di chi riesce a raggiungere la storia facile questi sono anni in cui le ho viste le storie personali trasformate in storie collettive e ho visto il bello ho visto il buono ho visto l'utilità ma ho visto anche proprio gli squarci personali di veramente persone che sono andate in brandelli pensando che gettare la propria vita gettare la propria storia potesse essere una soluzione e a me ha fatto paura quello io sono una persona estremamente riflessiva quindi prendo una scelta figura ti posso passare anche due tre anni di base ma se nel profondo c'è qualcosa una briciola che non mi convince non posso farlo ho lavorato recentemente alla storia di un bambino protagonista di un testo che un bambino con disabilità è un bambino sordo quante riflessioni ho fatto su questa cosa e solamente incontrando l'altro solamente pretendendo l'onestà dall'altra persona ho capito che anche perché poi noi ci troviamo di fronte a da una parte abbiamo un bombardamento di storie di notizie se io penso quando apro il tiktok le cose che scopro sono pazzesche però dall'altra parte è come scegliamo di raccontare queste storie a che cosa vogliamo arrivare perché se l'intento è io ti voglio raccontare l'esperienza di ragazza di 25 anni che sceglie di uscire dai testimoni di Geova di ricostruirsi una vita e voglio farti vedere come mi ricostruisco una vita è un conto se lo voglio fare perché posso arrivare a like facili posso arrivare a fare le influenze le sponsorizzate puoi farlo perché io per fortuna non sono nessuno per dirti sì o no però mi preoccupo per te cioè io ormai cerco cerco mie protetti e vado a vedere come stanno su tiktok di base questa è la mia vita perché in quell'età soprattutto in cui pensi che la tua storia è unica e devi pensarlo no hai una facilità di poter trasformare quella narrazione in un prodotto in un brand perché poi ultimamente è questo un andazzo che mi spaventa perché poi cosa resta di te per me è sempre questa la domanda ma sin da quando ero piccola perché per me nella mia esperienza personale la mia storia è stata sbattuta sui giornali quando io ancora appunto si parla di consenso figura che c'è nel senso non lo sapevo e solamente da grande ho reinterpretato e ho provato il fastidio ho provato anche l'incapacità di poterla descrivere il motivo per il quale io ho scelto io questa cosa non la faccio magari la vita mi permetterà di però quella responsabilità lì deve essere da entrambe le parti e soprattutto ripetisco perché se io riesco a trovare una domanda a quel perché e la risposta è tua però almeno partire da quello perché è un massacro e i massacri non ci piacciono molto non ci piacciono per niente non ci piacciono per niente infatti stiamo avvicinandoci un po' in maniera concentrica e il più possibile garbata a chi c'è al centro di questo di questo massacro tu Giulia a un certo punto scrivi e mi ricollego a qualcosa che stavi dicendo poco fa i mostri sono mediatici le vittime non fanno notizia perché c'è un vero proprio squilibrio nella rappresentazione giornalistica no? di questo genere di fatti e quindi allora ti chiedo non tanto e non solo perché poi in questo senso sarà molto bello scoprirlo per le persone che sono qui e per quelle che poi ci ascolteranno in un secondo momento non tanto e non solo chi è Passiance che appunto poi si racconta anche tra le righe insieme a tutto quello che è accaduto ed è bello scoprirla all'interno del podcast lei che specifica che è nata nel 77 in quello che lei chiama Congo Belga e oggi è la Repubblica Democratica del Congo e insomma ha tutto un suo modo anche di portarci geograficamente in certi luoghi e specifica le singole distanze dai posti e ci spiega anche come e quanto le distanze le abbia sempre vissute in maniera alterata per il fatto che l'assenza di infrastrutture faceva sembrare tutto molto lontano però ecco a te chiedo quindi non tanto chi sia lei quanto perché lei è bello scoprirlo dalle sue parole ma come ti sei preparata per intervistarla e poi anche forse anche se in qualche misura un pochino ce lo hai anticipato però un po' un po' più esplicitamente di così come è nato il progetto come ti è arrivata un po' questa storia allora rilassandomi a quello che tu dici che io scrivo i mostri sono mediatici le vittime no perché una delle prime cose che ho fatto quando abbiamo deciso poi di scriverla è stata cercare questa notizia io lo dico nel podcast su google e c'è sempre su google se voi lo cercate anche quando lo dico a Regione Domitilla la descrizione di lui di come lui l'hanno trovato lui a un certo punto non ha neanche provato a tirarsi indietro cioè ha dato delle giustificazioni alla polizia su perché avesse compiuto quel gesto ma era palese che fosse stato lui comunque qualsiasi articolo e non sono tanti gli articoli comparsi su patience perché è sopravvissuta e non ne hanno scritto tanto perché non era l'ennesima donna vittima di questo e questo lo dico non perché cioè un pur parler è una mia come dire supposizione ma perché in una ricerca che ho fatto su queste tematiche prima di fare il podcast che vi invito a fare se voleste insomma anche non così approfondita voi trovate molte più vicende storie narrate di donne che non sono sopravvissute quindi di vere e proprie vittime decidute a seguito di questa cosa e comunque in questa ricerca che ho fatto su di lei c'era sempre descrizione di lui di come lui era posizionato del suo corpo una descrizione molto dettagliata cioè se volete in maniera cinica per un narratore perfetta su di lei niente cioè lei non era interessante vuol dire è più interessante la donna l'ennesima donna vittima di violenza in Italia o il pazzo che ha fatto quello che ha fatto e poi ha detto quello che ha detto la risposta è che a livello mediatico è più interessante lui e quindi parliamo sempre di lui e lui è sempre al centro della narrazione quindi era al centro della narrazione prima si è preso quella narrazione l'ha portata dove voleva che andasse e continua ad esserlo anche dopo per questo qui ho scritto che muoiono due muoiono sempre in ogni caso perché tu sei morta cioè non c'è storia su di te nessuno ve lo racconta perché insomma non c'è niente di interessante pensate anche ai documentari cioè niente di ritenuto relativamente interessante e probabilmente non c'è ma il punto è che non è lì che dobbiamo cercare cioè non deve essere interessante questo è un problema sociale e politico che poi fa parte diventa parte delle storie che raccontiamo però prima di tutto cioè come diceva Speranza prima cioè diamo delle priorità questo è prima di tutto un problema sociale poi diventa materiale narrativo e mi sono per questa domanda come mi sono preparata ma allora prima grandi chiacchierate con lei io adesso non so se posso dire questa cosa cioè in realtà il progetto di pazienza era nato in modo diverso doveva essere un'altra cosa posso dirlo chiedo qua però in maniera io c'è la cosa che ho trovato interessante di tutto il gruppo di lavoro pazienza compresa che c'è stata sempre una fortissima onestà intellettuale tra tutti noi cioè il dirsi ok abbiamo questa cosa in mano questa roba fatta così non viene bene perché poi noi dovevamo tirare fuori un prodotto cioè dovevamo accontentare una sua richiesta che volevamo accontentare cioè la richiesta di una persona che in Italia ha detto io voglio raccontare questa storia che ha incontrato la persona giusta che poteva aiutarla a raccontare e questa persona ha messo in moto una serie di cose quindi in realtà io ero stata diciamo scelta per fare un altro tipo di lavoro e poi quel tipo di lavoro non si poteva fare io prima rendermene conto poi anche di altri e vabbè poi qua ci sono un sacco di cose che sono nate insieme è nata Mondadori Studios sono nate tante cose il progetto è passato di io sono passi per raccontare questo qua è passato così e quindi abbiamo deciso di farlo Pazianz è una persona lo raccontavo prima in Speranz innamorata di tutto ciò che è mediatico cioè il suo più grande desiderio era andare da Barbara D'Urso e quindi ci sono queste conversazioni assurde fra me e lei che le dico però meno perché non sei da Barbara D'Urso meno perché sembra che io ti obblighi e quasi uno si sente in colpa a ridere di questo però in realtà è stata proprio la parte bella del nostro lavoro insieme cioè il fatto che lei un secondo prima perché la vita è così tra l'altro cioè quando ti accade una cosa drammatica terribile ci sta che un secondo prima stai ridendo come un pazzo ma perché sei disperato comunque anche se stai ridendo come un pazzo anzi forse lo sei di più però la vita non è tutta fatta tragedia 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 lacrime lacrime e Pazianza è esattamente com'è la vita quindi un secondo la prendi in giro perché ti dice che le dici che sembra da Barbara D'Urso il secondo dopo lei è lì a raccontare questa vicenda per filo per segno con una forza che ad esempio tutti noi che eravamo presenti a quella registrazione non abbiamo avuto cioè a un certo punto abbiamo dovuto interrompere ma per colpa nostra perché noi non riuscivamo a reggere il peso del suo racconto e questo di nuovo perché le vediamo in televisione le ascoltiamo cioè io personalmente non sono una donna vittima di una violenza fisica e non ho vicino così vicino persone che l'hanno subito quindi non mi era mai capitato di guardare in faccia qualcuno così cioè di di quella violenza ho trattato questo tema altre volte ma non così e e non sei pronto ad ascoltarla cioè per quanto tu possa essere un autore per quanto tu possa essere un produttore una persona comunque abituata a questo mestiere la verità è che non sei pronto ti sorprende a scoprire che lei è molto più pronta di te quello che infatti trovo prezioso è che ci sia il suo nome e cognome completo assieme al tuo proprio perché quello che tu hai fatto è stato creare un castone all'interno del quale appunto incastonare la sua storia qualunque altra formula sarebbe stata profondamente ingiusta e credo sia anche interessante per chi ci ascolta sapere anche che tipo di lavoro c'è dietro a questo genere di cose perché altrimenti non riusciamo a rispondere mai alla domanda sul come fare a dare voce a chi non non ne ha e invece in questo senso è molto interessante scusami il lavoro è stato molto compresso perché più che altro la mia parte di scrittura al di là delle mie parti è stata come dire rimettere riscrivere quello che era come in tutti i podcast quello che voi ascoltate in realtà è un montaggio di sue cose noi avevamo tantissimo girato mi pare non lo so tanto non ricordo le ore esatte e il lavoro maggiore è stato riascoltare tutto questo e dare poi quelle quattro puntate non volevamo che fossero di più perché è oggettivamente una storia molto potente ad ascoltare di più sarebbe stata troppo ecco Espo una domanda che può sembrare provocatoria ma non vuole essere vuole soltanto aspirare alla completezza e la domanda che ti faccio è pensi che sia remotamente configurabile una situazione nella quale diventa accettabile visto che prima parlavi di consenso raccontare una storia altrui senza il suo esplicito consenso ma in Italia in Italia ora no ma io sono piena di fiducia posso rispondere così sono piena di fiducia nel senso che una delle mie difficoltà più grandi è legata al fatto che io leggo tantissima letteratura postcoloniale straniera e questa cosa poi mi riporta a dire wow che bella questa cosa che ho letto e poi ritorno nel mio paese e leggo le notizie mi capita di sentire delle cose settimana scorsa ho aperto i social e ho visto un video con un carico di violenza così grande che penso che mi ci impiegherò qualche settimana ancora a riprendermi perché poi non è che io guardo una cosa e la dimentico perché spesso c'è anche questa cosa proprio come parlava Giulia la suefazione alle immagini che ti fa pensare ma quello che io sto guardando si ferma lì e invece anche l'attenzione il rispetto la sensibilità nei confronti di chi magari quella cosa non l'ha vissuta in prima persona ma ha un vissuto simile vive a un livello di marginalità simile non se ne dimentica soprattutto la notte è possibile solamente se c'è un percorso di consapevolezza due settimane fa ho fatto una consulenza per questa casa di produzione che si chiama Sky ed è stato molto bello non si dice ma sì è stato molto bello no è stato molto bello per me perché è potentissimo e lampante vedere il gap che c'è ma è ancora più bello sapere che ci sono delle persone che vogliono ridurlo ma non hanno gli strumenti esattamente come dice Giulia nell'intro e quella cosa lì è un punto di partenza pazzesco noi possiamo in questo 2023 che sembra a volte un 2010 però va bene ci accontentiamo ci lamentiamo sembra quasi che quello che ci è arrivato dall'altra parte dell'oceano quello che ci è arrivato in questi ultimi tre anni debba essere capito subito messo in atto subito elaborato subito ma non abbiamo questa possibilità soprattutto nel momento in cui non abbiamo neanche elaborato qualcosa che arriva dalla nostra storia dal nostro progresso ed è un percorso ed è un percorso che io continuo a dire è faticosissimo ma non è faticoso per chi è nato è cresciuto qua italiano bianco non so per esempio in questo caso sto parlando da 17 generazioni e non si rende conto del suo tavolo e quindi di cosa c'è sul suo tavolo ma è faticosissimo anche magari per una persona che ha origini straniere ha fatto un lavoro di consapevolezza ha studiato è stata all'estero è tornata vuole farsi una famiglia qua gli dice come è possibile che siamo ancora a questo livello però scegli di vivere qua io lo dico sempre io ogni giorno scelgo di vivere in Italia perché io scrivo in italiano perché io parlo con questa lingua è troppo bella questa lingua per perderla per andare da un'altra parte e confondere le parole quello è uno dei miei terrori più grandi l'ho fatto c'è stato un periodo in cui ho vissuto in Francia nel momento in cui non riuscivo più a fare una frase in italiano ho detto no torno a casa perché è casa mia ma nel momento in cui casa mia mi mette in difficoltà io con la difficoltà la devo elaborare e quindi per me è un margine è un margine dove io lavoro nella consapevolezza che non sono da sola a fare questa cosa e quel punto di arrivo è un punto di arrivo che deve essere collettivo se non è collettivo io faccio milioni di fatiche ma anche chi poi si mette a lavorare certi prodotti a scrivere certi libri farà fatica perché sentirà veramente che c'è una distanza si sentirà indietro si sentirà frustrato ho fatto questo corso con degli insegnanti questi insegnanti mi dicevano questo cavoli io non so se posso dirle certe cose però i miei alunni ogni giorno mi obbligano a riflettere su queste cose ed è faticoso è frustrante perché non bastano i miei 30 anni di insegnamento non bastano i corsi di formazione che la scuola mi metta a disposizione che non trattano niente di quello di cui ho bisogno non basta neanche il fatto che magari io sono qua mi impegno mi iscrivo in un corso di formazione è proprio un continuo una continua frizione no? che dà fastidio perché è faticosa però non lo so io la vita facile l'ho scartata penso nel 98 tipo e quindi mi piace pensare che nella complessità ci possono essere anche delle zone di stallo ci possono essere delle zone in cui dici guarda io voglio stare tranquillo però se hai a che fare con le parole se hai a che fare con le storie non puoi non pensare che la fatica non faccia parte del tuo lavoro secondo me diceva una persona che le parole sono importanti assolutamente assolutamente a proposito di difficoltà però e di scelta delle parole questa domanda non posso non fartela da persona ossessionata dalla forma poi che prendono anche gli iscritti allora quello che ti chiedo è un po' qual è stata nel passaggio dalla parola scritta alla parola scritta per essere letta o comunque alla scrittura di un podcast la parte più difficile quindi cercando se possibile quando possibile di mettere per un istante da parte tutta la parte di carico emotivo che già ci hai raccontato e invece concentrandoci sulla difficoltà del tipo di lavoro cioè cosa succede quando una scrittrice si presta a un altro mezzo narrativo beh questa domanda potrei fare anche a te perché anche tu stai facendo un podcast quindi potresti rispondere anche tu anzi magari dopo rispondi io mi sono apposta a questa cosa quando mi è stato proposto ho risposto sì ma io non ho mai fatto un podcast in vita mia e la risposta dall'altra parte è stata come tutte le persone che fanno podcast ma tu sei la prima persona che lo dice e quindi questa roba mi ha questa roba mi ha mi ha rasserenato ecco io non ho trovato cioè nella mia nella scrittura non ho trovato molta difficoltà perché tendo a immaginare tutto quello che scrivo come se qualcuno dovesse leggerlo a voce alta quindi leggo tutto a voce alta più volte infatti ho un cane che si vuole suicidare per questo e quindi proprio io cioè mi immagino tutto quello che scrivo a voce alta voglio che suoni bene a voce alta perciò su questo non ho fatto la grande fatica quella parte di me è venuta abbastanza naturale è stato strano non avere a che fare solo con i miei pensieri quindi dover montare montare in scrittura perché poi l'ha fatto chi dovere ecco i pensieri di un'altra persona le testimonianze di un'altra persona in una maniera narrativa quello è stato è stato stranissimo perché avevo materiale di altri a cui io dovevo attribuire un senso non solo possiamo dirlo non siamo cattivi anche rendere un prodotto avvincente cioè perché comunque quello stai facendo e quindi decidere che quella testimonianza va all'inizio come ci dicevamo prima quella cosa va alla fine è stato un esercizio di scrittura bellissimo per me molto molto difficile molto più difficile che tanti altri perché era nuovo perché poi comunque io non è che abbia insomma non sono nessuno quindi è stato è stato complicato anche per quello però che consiglierei a chiunque scrive cioè avere a che fare con le parole degli altri avere la responsabilità delle parole degli altri anche in una forma narrativa cioè quindi al di là come hai detto tu dell'etica e della morale ti aiuta molto a a capire proprio la struttura delle storie molto e per te com'è? ci fai tutte le domande e se le chiedo anche io a te ma nella GIF di Homer non è prevista alcuna interazione non riesco c'è un libro bellissimo di Jonathan Gottschall che citiamo sempre 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 in formazione che è l'istinto di narrare e all'interno c'è quell'esperimento buffissimo di Heider e Simmel che viene citato c'è questo videino muto che negli anni 30 è stato proiettato davanti a un po' di persone che si sono sottoposte a questo esperimento psicologico un video muto molto breve all'interno del quale sostanzialmente si muovevano triangoli cerchi quadrati figure geometriche che entravano e uscivano da linee rette e così via del centinaio 200 persone che per la prima volta hanno partecipato a questo esperimento dinamica che si è ripetuta tutte le volte seguenti soltanto due o tre dopo la visione alla domanda che cosa avete appena osservato che cosa avete appena visto hanno risposto delle figure geometriche in movimento perché tutti gli altri hanno risposto dicendo che vedevano appunto ecco liti violenze domestiche oppure corteggiamenti oppure predatori oppure ecco perché è un po' questo l'assunto di goccia l'istinto di narrare è proprio quello per cui il nostro cervello di esseri umani più o meno umani tende a sistematizzare ciò che vediamo e quindi nel caos generale cerchiamo di dare un senso alle cose narrandole mi ci hai fatto pensare moltissimo nel raccontare come ti sei ritrovata a posteriori a dover dare una struttura e sono due volte che esce o forse più che esce fuori la parola prodotto e penso a quante volte lavorando nel settore culturale in senso lato che a volte fa sorridere soltanto usare l'espressione a volte molto meno si abbia paura di utilizzare la parola prodotto come se questa possa andare incontro andare contro perdonatevi a velleità autoriali di vario tipo e di varia natura in realtà affinché le storie arrivino a chi c'è dall'altra parte occorre trovare banalmente un modo di recapitarle e quindi anche necessariamente di venderle e non credo sia una parolaccia di guadagnarci cioè sostenibile genericamente il lavoro culturale siamo rimasti in uno dei pochi settori ne parlavamo prima con Limpia Zagnoli che è un'illustratrice noi siamo rimasti cioè chi scrive in uno dei pochi settori che si vergognano e dire che vuole guadagnare dalle proprie cose ma cioè io spero che i miei libri vendano certo che spero di fare più soldi scrivendo storie che in altri modi perché è quello che mi piace però io magari altre persone non scrivo per tenere la mia storia nel cassetto io scrivo perché tutti la leggano e l'amino non capisco perché questa cosa non si possa dire cioè la trovo secondo me tutti gli altri settori culturali artistici hanno superato alla grande questa cosa noi siamo rimasti gli unici a dire che no noi siamo qua noi diciamo noi sì ecco forse per tanto anche il divertimento ne parlavamo prima cioè il fatto che scrivere può essere una cosa dove ti diverti no cioè bellissimo laurea però cavoli ci sono scelte abbiamo scelto questo lavoro e anche perché nel momento in cui l'abbiamo incontrato ci siamo divertite nel momento in cui l'abbiamo incontrato abbiamo trovato una parte di noi che ci ha fatto stare bene per me scrivere deve essere deve rimanere per forza quella cosa lì se no smette di essere anche un aspetto della mia vita in cui magari mi impegno anche per arrivare a un prodotto che poi venderà però deve avere almeno quella matrice lì del divertimento se no non vale se ci pensi e perdonate il detour è proprio il cortocircuito logico legato alla parola divertimento e c'entra forse un po' anche la morale cattolica sul fatto che il divertimento è qualcosa che non possiamo goderci fino in fondo però in realtà è una parola meravigliosa perché è letteralmente divertere cioè vertere altrove l'attenzione rispetto a qualcosa è intrattenerci intorno al fuoco mentre dobbiamo far passare la nottata perché perché i predatori si aggirano insomma e noi in qualche maniera dobbiamo riuscire a rimanere svegli vigili e in vita è dai cromagnoni in avanti che proviamo a fare questa cosa arrivando un po' più avanti arrivando un po' più avanti invece a te chiedo proprio perché appunto la vocazione grandissima qui credo un po' e il divertimento di tutte e tre è anche nel cercare di accendere fiammelle altrove che consigli daresti ad autori autrici che vogliono provare a cimentarsi in questo compito difficilissimo cioè con grandissimo rispetto provare a scrivere storie a partire anche da esperienze identitarie culturali sociali diverse hai già parlato del cercare il perché cos'altro possiamo fare attenzione all'incontro reale ad andare a sbattere contro i muri ad ascoltare provare fastidio sentirsi vulnerabili sapere che pensavi di sapere 100 e in verità 6.040 e puntare a meno 15 che può essere già qualcosa sono troppe le storie le realtà silenziate e con silenziate non significa che non vogliono essere dette e che qualcuno dall'alto le sta silenziando e quindi penso che è anche una fase di di presente in cui prendiamo quello che c'è poi nel momento in cui io posso di nuovo far sentire la mia voce ti ti guarda questa cosa che hai fatto non benissimo però ci sono ancora troppe cose sott'acqua e e mi ferisce mi stupisce perché sono io la prima a rendermene conto che magari mi sento super orgogliosa perché dico ah mi è venuta un'idea pazzesca e poi magari parlando con delle vite che incontro mi rendo conto che quell'idea taglia fuori qualcuno una mia carissima amica che si chiama Ivana Nicolich mi fa io ho letto il tuo romanzo però le persone roma non ci sono nel tuo romanzo e io sono qua sono tua amica perché non ci ha pensato nella mia vita per fortuna spero di avere la possibilità di scrivere un sacco di libri ma non con la visione di flaggare no perché non è quello il punto è accogliere che non è includere che è diverso perché se includi escludi qualcuno automaticamente invece accogliere vedere quello che c'è vedere quello che mi sfiora davvero nelle cose che incontro anche perché purtroppo io a parte quando proprio faccio la matta e quindi invento cose da zero di base mi piace partire da qualcosa che conosco da qualcosa che non ho capito no per scrivere almeno questo è uno degli approcci che preferisco di più però a costo anche di rischiare di essere ripetitiva quando io ho risposto alla mia amica Ivana io non ne ho parlato non perché non volessi ma non sapevo e se non so non ho la certezza e se non so mi sento sicura e se non so la sindrome dell'impostore proprio si mette sul cuscino e mi guarda la notte dormire e già dormo poco figuriamoci così ho bisogno di tempo ve l'ho detto ho bisogno anche di qualcuno che mi aiuti di qualcuno che abbia voglia di farlo e di capire come farlo nel migliore dei modi senza essere opportunista perché è facile poter raccontare delle storie che vendono io continuo a dirlo io potrei raccontare la stessa storia all'infinito potrei raccontare la storia del genocidio del Ruanda potrei farlo ma ho troppo rispetto per le parole e per la fatica che ci richiedono per buttarla così un po' in cacciara potrei vendere probabilmente oppure no non lo so però è una cosa che penso sempre quando ci sono pensando al genocidio del Ruanda perché riguarda la mia storia ci sono gli anni di commemorazione pari quando c'è il decennale e vedono uscire fuori queste interviste questi libri e per me è una cosa perché mi rendo conto che capita con tantissime cose penso che sia anche una questione di coraggio penso che sia anche una questione di sfrontatezza c'è chi ce l'ha io no ma perché per me sembra una cosa estremamente intima e quindi gli autori le autrici devono capire che livello hanno anche di intimità con la propria scrittura perché poi è uscita fuori questa discussione sempre online su genitori che parlavano di questi libri che vanno di moda sul booktok e borbottavano ma se tu non sei in target entrare dentro storie che non sono per te ti fa solamente salire la bile rispetto a qualcosa che non ti emoziona proviamo invece a pensare alle storie che sono per il tuo target che cosa ti stanno raccontando ti stanno parlando del presente ti stanno parlando di quello che vedi quando scendi a fare la spesa al mercato orionale se riescono a parlarti di questo è bellissimo ma se non ti parlano di quello preoccupiamoci di quegli spazi vuoti preoccupiamoci di quelle vite di quelle storie che sono ancora sott'acqua possiamo andarle a recuperare se ancora non riescono a salire su possiamo farlo e poi arriverà il momento in cui vengono a galla e quanto sarà bello confrontare non è facile ma sarà bello secondo me a proposito di quello che poi succede quando le storie vengono a galla a te Giulie chiedo ancora qual è l'impatto l'esito che speri abbia nelle orecchie e nelle teste di chi ascolterà questo podcast cosa auguri in termini proprio di effetto diciamo così perché che sia tosto è poco ma sicuro poi cosa deve succedere secondo me questa risposta dipende molto dall'esperienza personale di ciascuno e quindi è chiaro che se sei una donna vittima di violenza forse sarebbe un po' presuntoso da parte mia dire che cosa dovrebbe succedere però diciamo che nell'idea mia di Pazianzo quello che deve succedere è un incentivo a poterti proteggere a denunciare a capire che c'è una via d'uscita perché Pazianzo quella via d'uscita l'ha avuta ce l'ha la sta vivendo dalla vicenda tutta la vita lei e sua figlia saranno cioè sua figlia forse ancora di più saranno avranno questa storia addosso a un ascoltatore che invece lo ascolta così come si può scegliere una storia io mi viene un termine ma non credo che sia corretto cioè auguro quello che poi auguro un po' tutti quando ascoltano una storia cioè di darsi una calmata no nel senso che noi viviamo convinti di essere il centro del nostro piccolo mondo del mondo degli altri sì per credere se dovrebbero farci dare tutti una grande calmata e questo è grave che io non abbia altri termini per spiegarlo cioè il capire non che esistono ti possono succedere cose più gravi perché voglio dire se questo non lo sai sei un demente quindi non hai bisogno di una storia perché certo che ti può andare peggio di come ti va sempre nella vita però proprio cioè il modo che ha lei di raccontare il senso che trova in ciò che le è capitato la legge che comunque non è stata un gran chiede alla sua parte nonostante la pena di luce una serie di cose tutte le ingiustizie che lei ha subito io nel podcast lo dico Passiance sì è vittima di quell'uomo ma in qualche modo è vittima anche nostra cioè di una società che non ha potuto costruire intorno a lei un sistema che l'ha aiutata a non arrivare a porta portese la scena del giardino e dell'affaccio delle persone è qualcosa che perché lei la scena che si riferisce è che quando Passiance è in casa e lui sta tentando di ammazzarla tutte le persone del palazzo si affacciano e lei ha una casa a pian terreno però non spoilerare e vabbè ma tanto comunque questo sì però perché dico darci una calmata proprio perché perché le storie dovrebbero un po' aiutarci a spostare il centro cioè tutti noi siamo il centro del nostro mondo tutti noi in questo momento stiamo pensando che abbiamo delle cose più importanti da fare che stare qui ma io mi capisco cioè anche io lo sto pensando loro lo stanno lo stiamo tutti pensando ma è lecito no alla roba importante che dobbiamo fare domani fra mezz'ora tornare a casa da chi è mia cioè ok e questo va benissimo cioè questo sarebbe stupido e retorico dire che ce lo dobbiamo dimenticare e che certe volte ricordarci che ci sono altre storie ma anche altri modi di uscire dalle storie che secondo me è ancora più interessante ti aiuta un po' a spostare il tuo centro quindi io auguro alle persone di spostare un po' il centro da loro stessi questo podcast è il rimedio secondo me a qualcosa che non è detto che vada necessariamente curato ma è la non so l'overdose da Stefano Nazzi cioè mi sembra un po' c'è una forma di no aspetta posso spiegare c'ho anche la sciopperina del post ma posso spiegare posso spiegare se noi eleviamo non segnatevi questa frase per ricattarmi in futuro e non ditelo al buon Nazzi no quello che voglio dire è che c'è una forma di compiacimento morboso di cui ci siamo accorti tutti e tutte in merito alle storiacce alle storiaccione quanto ci piace sguazzare nelle storiaccione scoprire quante cose sono andate male quel giorno quante ma proprio quante non solo Nazzi prende questa barra e se possibile la alza o la abbassa non so dipende dal punto di vista dicendoci quante cose sono andate male dopo nelle indagini perché indagini si chiama il podcast del post e lì meraviglioso salutiamo però all'interno di sotto le unghie quello che accade è l'esorcismo di questo sguazzare qui e accade una cosa meravigliosa che letteralmente invece scopri quanto possa prendere un'altra piega la giornata non farei riferimento al alla mascotta di Passianzo però al Papa però invece non è necessariamente da imputare al miracolo quanto alla sua straordinaria voglia di resistere di raccontarla e lei ha un modo straordinario non è da tutte le narratrici e i narratori credo creare un'occasione del genere per un'altra narratrice perché Passianzo lo è di mettersi in luce in questo modo con delle doti davvero davvero notevoli di raccontare la propria storia dopodiché il lavoro di montaggio di qui sopra è davvero davvero eccellente lei è bravissima lei è bravissima voi siete stati paranormali credo proprio per come è godibile anche la narrazione e questo ci tengo a specificarlo perché altrimenti no rimane quel morboso di qui sopra invece no invece questo è un è un ottimo secondo me antidoto davvero davvero poi per quel che contano i miei due sens chiedo ancora per esaurire la pazienza chiedo ancora un'ultima cosa anche a te Espo prima di dare modo al pubblico di domandare qualsiasi cosa e cioè mi premeva parlare di gatekeeping di quel meraviglioso no ovviamente sono ironica fenomeno per cui c'è una sorta di guardiania delle porte invisibili quanto ruolo ha siccome so che sono tematiche che ti sono molto care e molto vicine quanto ruolo ha a volte l'industria il settore culturale in senso più lato nel in qualche maniera poter prevenire fenomeni di appropriazione culturale o comunque sia invece facilitare la rappresentanza di qui sopra quanto ruolo hanno le persone che sono a guardia dei magici cancelli oppure quanto è stata brava Mondadori studiosi in questo caso quello che vuoi c'è una casa molto bella di questo podcast che arriva proprio alla fine che per la maestria narrativa permette di chiudere il cerchio e permette di farlo cerco di dirlo senza fare spoiler ti permette di capire il titolo di questo podcast io ho avuto bisogno di almeno 5 minuti di tempo per recuperarmi perché una delle problematiche di questo rischio dell'appropriazione culturale è di questo dibattito no? è che non può essere solo un dibattito è che quello che si prova a raccontare o quello che si tenta di rubare non è una cosa che rimane solo sui fogli di carta sui vestiti di carnevale nelle battute è una cosa che certe persone non scelgono di portare in giro nel mondo e nonostante questa non scelta c'è un mondo che ogni volta gli ricorda che c'è qualcosa di sbagliato quando tu non puoi scegliere quando tu devi lavorare per tutta la vita sulla convinzione che quello che sei e che non è scelto è bello è giusto non è sbagliato ma continua a fare degli incontri che perpetrano l'idea che sia tutto il contrario è difficilissimo apprendere si parlava del stiamo tutti pensando ad altro e torneremo a casa alla fine magari ascolteremo questo podcast e cosa ci lascia la protagonista di questo podcast che dovrebbe essere l'ultima delle persone che poteva stare lì a trovare una lezione una morale in una frase mi ha aperto il mondo dell'educazione generale che questa cultura dovrebbe avere l'incontro dovrebbe permetterci di ricordare che quello che abbiamo di fronte non sappiamo che cos'è e questo podcast mi ha ricordato quanto è fondamentale la cura perché la cura io posso trovarla nella mia comunità me la sono scelta nella mia bolla come la chiamo me la sono scelta e ringrazio tutti i giorni di avere una bolla e di lavorare per mantenerla chiusa serrata rispetto a quello che è il presente che sta fuori da questi spazi da casa mia dalla libreria mia di fiducia però la cura è una pratica come ci insegna anche Belux deve essere una pratica perché se no diventiamo dei mostri e non dobbiamo per forza uccidere qualcuno a coltellate per essere dei mostri basta stare dentro un'ambulanza e fare una battuta senza pensare a cosa possa esserci dietro e quella cosa lì è minuscola è un granello di sabbia però ti porta a vedere che forse non è sabbia quella cosa lì magari un pezzo di vetro che è levigato 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 è diventato un granello era una bottiglia e guarda in cosa l'hai ridotta perché a volte io ho l'impressione che questo mondo qua voglia ridurmi in un granello di sabbia quando io sono non lo so un vaso di Murano che quando ero piccola a casa mia c'era questo vaso che era tipo preziosissimo si potevano anche guardare e quindi sono cresciuta con questa idea non posso permettermi che le persone facciano questa però deve essere una cosa collettiva devo ricordarmi ed è faticoso perché significa che devo mantenere la mia sanità mentale e quindi stare nella mia bovolla ricordami e quando voglio provare a raggiungere qualcosa nel mio caso scrivere libri ma tantissime altre persone penso gli amici che stanno studiando giurisprudenza medicina chimica cioè qualsiasi cosa ricordarsi che si può pretendere si può far valere quel vaso lì perché sono venuta al mondo in quel modo con quella forma non mi puoi distruggere perché anche tu sei un vaso stiamo insieme su questo tavolino possiamo arricchire la cosa e invece no e quindi questa cosa qua secondo me è più legata alla cura alla cura e il pretendere che io mi possa curare ma anche il mondo attorno si ricorda di questa cosa che è un esercizio una pratica costante grazie grazie infinite ultimissimissimissimissima domanda per Gioli giuro e poi mi taccio sono due domande in realtà cosa avresti voluto sapere prima di lavorare a questo podcast c'è qualcosa che avresti voluto sapere in anticipo che a rifarlo avresti fatto diversamente ma prima di cosa di iniziare tutto il percorso di raccolta delle interviste di colloqui e quant'altro c'è qualcosa che ti avrebbe consentito di giocare d'anticipo no cioè non voglio essere presuntuosa non è che pensi che sia un lavoro perfetto soprattutto quello che ho fatto io non è fatto bene però no nel senso che è stato un lavoro così lungo nel corso degli anni quanto è durato? il lavoro del podcast in sé no no nel corso tutto 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 il percorso è iniziata questa faccenda tanto tempo fa forse era il 2021 giusto? sì cioè iniziare ad ascoltare ma non ci aveva messo tre anni a fare quattro puntate se sparge la macchia che mi ha dato di studio ci mette tre anni a fare quattro puntate non è bello no no sì quindi è durato tanto e secondo me è stato questo che io talmente tanto ho scaldato la sua storia partendo appunto dal fatto che dovesse essere un altro progetto quindi io dovendo riflettere io sono stata super scettica a farla per tutti i motivi che abbiamo appena elencato che sinceramente cioè io volevo una cosa che volevo fare un lavoro di cui fossi mediamente soddisfatta per quanto una persona un oratore possa sempre essere soddisfatta del proprio lavoro e volevo che poi fosse contenta lei è contenta e quindi secondo me abbiamo fatto gol poi insomma Stefano Nazzi fa altri numeri però ecco chi lo sa tu dici magari anche ciao ciao